L'Eni è in campo per l'alternanza scuola-lavoro, un'opportunità per gli studenti che si realizza attraverso percorsi didattici svolti in azienda, visite in campo ai siti produttivi e workshop sulle competenze personali necessarie per integrarsi nel mondo del lavoro. Sulla base delle richieste delle scuole, in particolare quelle situate nei territori di maggiore presenza della società, si prevede di coinvolgere nel triennio 2016-2018 circa 5200 studenti. Il programma delle iniziative relative all'alternanza comprende dei percorsi di formazione che si sviluppano all'interno dell'azienda, anche comprensivo di visite in campo presso i nostri siti produttivi e workshop focalizzati sull'apprendimento, sulla conoscenza di quelle competenze personali che sono particolarmente utili per integrarsi nel mondo del lavoro. Questo programma di alteranza scuola-lavoro è utile e vuole orientare, supportare l'orientamento delle studentesse e degli studenti coinvolti per cercare, cercando di metterli a contatto con i lavori, con le attività che caratterizzano i ruoli professionali tipici di un'azienda energetica quale Eni. Un altro progetto promosso da Eni riguarda l'apprendistato. L'iniziativa invece di apprendistato di primo livello, attraverso dei contratti annuali o biennali prioritariamente a contenuto formativo, tende a voler integrare le competenze, le conoscenze apprese a scuola con l'acquisizione di conoscenze tecnico-professionali, ma anche trasversali, tipiche del mondo dell'oile in gas, al quale con la nostra azienda ovviamente apparteniamo. Sono delle iniziative importanti che tendono e hanno l'obiettivo di facilitare poi nel tempo l'inserimento nel mondo del lavoro delle ragazze e dei ragazzi che sono coinvolti. Con queste iniziative diciamo che completiamo il novero dei progetti che da SEP per Eni sviluppa in cooperazione, in coordinamento con il mondo dell'education, in particolar modo in Italia. E fra gli studenti che hanno partecipato c'è soddisfazione. Questa esperienza mi ha arricchito di innumerevoli conoscenze in ambito lavorativo ma anche in ambito sociale perché si è basata appunto sulla collaborazione e sulla cooperazione di tutti gli individui che hanno partecipato a questo progetto. Sicuramente l'alternanza scuola-lavoro offre a noi studenti una ampia panoramica di ciò che significa mondo lavorativo anche visto dall'interno. Sicuramente dopo l'esperienza effettuata in Eni credo di avere le idee più chiare e non nascondo di essere più sicuro di ciò che voglio fare da grande e chi voglio essere.